Ancora una fine settimana di incendi in Sicilia, circa 17 che hanno coinvolto l'isola, forestali e vigili del fuoco impegnati su diversi fronti, a cominciare dal Monte Pellegrino a Palermo, dove da sei giorni si sviluppano nuovi focolai lungo il costone roccioso che domina il capoluogo. Nell'Agrigentino, un rogo è divampato a Siculiana, incontrada a San Giorgio, ad Agrigento, incontrada a Borsellino, a Cattolica Eraclea, incontrada a Portella Albano. Nel Nisseno, Fiamme a Mazzarino, incontrada a San Cono Sottano, incontrada a Ficari, a Niscemi, incontrada a Stizia, a Gela, incontrada a Valle Monacella, a Serra di Falco, incontrada a Rabbione. Nel Trapanese, squadre Nazione a Castellammare del Golfo, nei pressi delle Terme Segestane, nell'Ennese, un rogo viene segnalato ad Aidone, incontrada a Coda di Volpe, nel Messinese, fiamme a Castro Reale, numerosi anche gli incendi nel Catanese, a Licodia Ubea, incontrada a Boschitello, a Piedimonte Tenneo, incontrada a Vena, ad A Cireale, incontrada a Mangano, a Lingua Glossa, incontrada a Gibiotti, Monte Surbi e a Vizzini, incontrada a Scifo. Infine, nel Siracusano, ad Augusta, incontrada a Palombara.